e ciao a tutti qui da AbelFC in questo video andiamo a vedere insieme la strategia per fare al meglio la squadra al fantacalcio mantra ma prima di partire mi raccomando iscriviti al canale, lascia un commento qui sotto e anche un bel like aiutaci a crescere vai a vedere dal link in descrizione al fantacalcio pro e anche l'abbonamento VIP ah vi ricordo che questa grafica fatta dalla NASA in tre dimensioni mi è costata circa 4000 euro ma partiamo subito e andiamo a leggere insieme fantacalcio mantra 2022, 8 partecipanti, i moduli scelti sono stati il 3-5-2 e il 4-3-1-2 qui ho sbagliato a scrivere ma c'è scritto devo prendere difensori che possono giocare anche come esterni e questo è fondamentale nella mia strategia e andiamo a vedere i calciatori che ho scelto per riempire i moduli nel primo caso, nel primo modulo dei 3-5-2 ho scelto Magnani in porta Masina come difensore centrale, Bonucci uguale e Smalling come mediano ho scelto Brozovic come centrocampista Bonaventura e questa Bonaventura nel fantacalcio mantra in quest'anno, in questa stagione è fondamentale perché oltre ad essere un bravo calciatore qui nella nostra Serie A farà molto bene ma è anche un jolly perché può ricoprire tanti ruoli poi ho scelto Lazovic come esterno a destra e Biraghi a sinistra come trequartista centrocampista ho scelto Milinkovic, Savic poi Lukaku e Pinamonti in attacco ma questo modulo, questa squadra può diventare quest'altra con piccoli cambi cioè teniamo sempre Magnani in porta giustamente a sinistra in questo caso abbiamo Masina poi difensore centrale in questo modo abbiamo Bonucci e Smalling e a destra abbiamo De Silvestri quindi è importante avere questi cacciatori che possono giocare sia come difensore destri per esempio come nel caso di De Silvestri ma che possono farlo giocare anche come esterno infatti De Silvestri potrebbe giocare anche al posto di Lazovic in quest'altro modulo e Biraghi per esempio potrebbe giocare come esterno in un altro modulo anche qui gioca come esterno ma potrebbe giocare anche in difesa al posto di Masina e così via quindi prendere questi cacciatori è fondamentale in questa strategia e nel fantacalcio Mantra in generale Mediano-Borozovic buona avventura rimane al nostro centrocampo Milinkovic-Savic va un po' più indietro e diventa centrocampista e a solo tre quarti ho messo Sabiri poi Lukaku e Pinamonti ho scelto questi cacciatori perché secondo me sono fattibili da prendere in questa lega ad otto partecipanti è ovvio che potevo mettere i migliori giocatori del Mantra qui dentro ma sono anche realista e quando vai a fare un'assi di fantacalcio devi prendere in considerazione che non puoi pensare di prendere tutti i top ma devi fare una squadra equilibrata un mix tra scommesse e giocatori delle neopromosse oppure giocatori comunque top insieme ai provinciali e poi infatti vedremo anche la lista qua sotto dopo passiamo a questa parte della nostra strategia perché qui ho segnato con un minimo di 26 giocatori come slot, come squadra in questa lega ho deciso di prendere secondo me per usare al meglio il budget e comunque avere giocatori titolari ho scelto tre portieri giustamente e sono quelli del Milan che dopo vedremo insieme tre difensori sinistri che giocano come esterni cinque difensori centrali tre difensori destri che giocano come esterni tre mediani che giocano come centrocampisti cinque centrocampisti tre trequartisti e cinque punte centrali e attaccanti se andiamo un po' più giù andiamo a vedere che in attacco ho scelto di prendere un big quindi comunque un top player e poi due buoni provinciali e altre due scommesse credo che quest'attacco sia quello più equilibrato di tutti centrocampo ho scelto di prendere quasi tutti centrocampisti che possono giocare anche sulla trequarti credo che sia fondamentale nella mia strategia in questo modulo la stessa cosa quindi giocare sempre con centrocampisti che possono in caso di necessità giocare anche sulla trequarti come Milinkovic, Savic per esempio che può prendere benissimo il posto di Sabiri quando vuole in difesa tutti quelli che possono che sono DD o DS quindi difensori destri o sinistri possono giocare anche come esterni e questo avevo detto prima già dall'inizio credo che sia fondamentale in generale nella fatta calcio mantra avere difensori che possono ricoprire più ruoli e i portieri di una squadra con il budget a 8 partecipanti ho scelto questa strategia questa divisione del budget quella sua divisione 10% per i portieri 15% per i difensori 30% per i centrocampisti e 45% per gli attaccanti punti centrali con 10 partecipanti invece andiamo su una cosa un po' più equilibrata per essere sicuri di prendere tutti i giocatori che ci possono garantire la titolarità e abbiamo scelto 10% per i portieri 20% per i difensori 30% sempre per i centrocampisti e 40% per gli attaccanti quindi non è cambiato tantissimo ma in leghe dove le persone giocano abbastanza bene queste percentuali vanno benissimo è ovvio che se giocate contro degli scarpari loro ci punteranno molto di più sull'attacco spenderanno anche 50-60% del budget in attacco che secondo me è sbagliato soprattutto nel fantacalcio mantra poi andiamo a vedere il budget per ruolo con 1000 fantamilioni e abbiamo suddiviso in questo modo anche in base al ruolo specifico di ogni calciatore e questo è fondamentale nel mantra abbiamo deciso di dare 100 fantamilioni per i portieri 50% per i difensori sinistri ed esterni altri 50% per i difensori destri ed esterni e altri 50% ancora per i difensori centrali poi per i mediani centrocampisti quindi quelli che giocheranno al posto qua di Brozovic ok e Brozovic stesso abbiamo deciso di dare 100 fantamilioni che secondo me possiamo anche risparmiare di questi 100 milioni per investire poi sul centrocampisti e trequartisti infatti qua ho messo 200 fantamilioni ma non so se riusciamo a prendere poi Milinkovic, Savic, Buonaventura e Sabiri per esempio quindi secondo me il budget qui da spendere un pochettino in più quindi leggermente in più ma Brozovic lo prendiamo sicuramente a molto molto meno di 100 e riusciamo a prendere altri comunque mediani perciò secondo me 300 in totale per i centrocampisti va più che bene e poi come punta centrale per prendere Lukaku e Pinamonti facciamo questo esempio qua come titolari 450 fantamilioni possono andare bene ripeto ancora che se siete in una lega dove sono tutti non sono bravi a giocare spenderete di più secondo me per gli attaccanti ma questo è un caso dovete capire bene nel dettaglio le percentuali in base anche ai vostri avversari e andiamo a vedere adesso i nomi abbiamo in porta abbiamo scelto Magnan Mirante Tatarussano quindi la porta del Milan poi abbiamo scelto come difensore sinistri Masina Biraghi e Birindelli secondo me questi difensori sinistri sono molto bravi e possono giocare tutti come esterni possono fare molti bonus Masina già segnato Biraghi è uno che può fare molti assist e Birindelli è lo stesso giocando comunque lì davanti come centrocampista difensore centrale scusatemi abbiamo Bonucci Smalling Toloi Nuitink e Scalvini quindi una scommessa e due diciamo giocatori che sono molto conosciuti sono ti danno la sicurezza da almeno del 6 non so se con 50 riuscite a prendere tutte e due tra Bonucci e Smalling dipende dalla Lega dipende dall'aste che fate ma se ne prendete uno di loro e Toloi per esempio e Nuitink va benissimo come difensore centrale e poi prendete Scomesso Scalvini oppure altri difensori che possono comunque giocare perché Scalvini all'Atalanta giocherà tante partite se non sarà addirittura titolare poi difensore destra e desterni abbiamo scelto De Silvestri Marosic e Berensinski ok per giocare lì sulla destra e sono calciatori questi qua che possono giocare anche più avanti invece sulla mediana abbiamo scelto Brozovic come detto prima Benasser che secondo me in molte leghe uscirà a costo zero praticamente perché nessuno ci penserà a lui perché è molto difensivo ma è un mediano fantastico e gioca titolare al Milan e poi Mandragora della Fiorentina che lui giocherà tanto e sarà una delle sorprese del campionato poi come centrocampista e trequartista abbiamo scelto Buonaventura che è il Jolly per eccellenza del Fanta Calcio Mantra in questa stagione e ormai da molte stagioni Milinkovic Savic Lazovic Sabiri Sensi Adli una scommessa Samarzic un'altra scommessa e anche Torzfeld ok del Sassuolo quindi abbiamo calciatori che sono molto conosciuti come Buonaventura Milinkovic Savic ma poi abbiamo un po' di scommesse e quindi con 250 milioni secondo me riusciamo a prendere tutti poi in attacco e punta centrale abbiamo uscito Lukaku Pinamonti Quagliarella che secondo me sarà un'altra sorpresa del campionato Correa che comunque nell'Inter entrerà spesso per giocare e Lasagna quando ho fatto questa strategia Lasagna non aveva segnato adesso sarà un po' più visto da più allenatori perché sappiamo che Alveolo non segnerà qualche gol secondo me arriverà anche a 12-13 gol se non è Lasagna se non arrivate con il budget per prendere Lasagna scegliete comunque un provinciale o comunque un giocatore che gioca una squadra neopromossa ma che è titolare è fondamentale avere è vero avere Quagliarella e Correa che non sono titolari fissi ma puoi avere un Lasagna oppure un Pinamonti che ti gioca sempre poi qui invece ho fatto perché questa è la lista A qui accanto ho messo una B perché questo perché nella vostra strategia non dovete fare soltanto il piano A che è questo qui ma dovete fare anche una lista B e infatti ho messo qua i migliori sostituti della lista A per esempio in porta è la migliore scelta al posto di Magnano cioè se non riesco a prendere Magnano prenderò un altro portiere forte quanto Magnano cercherò di prendere non so Cesne e Perin quella coppia lì prenderò Onana e Andanovic e così via forse rispendete un po' di più tra Onana e Andanovic dipende dalla Lega ma questo qua è per farvi capire che in base a chi hai preso di qua o chi non hai preso sceglierai il piano B per esempio al posto di Masina potevo metterci un altro difensore sinistro ed esterno qui Bilaghi lo stesso Bilindelli lo stesso cioè se non riesco a prendere Bilindelli prenderò quello della lista B e così via per tutti i giocatori poi un'altra cosa ancora più importante è che non basta anche la lista B so che molti dicono che palle devo stare lì a scrivere mille liste sì se vuoi vincere al Fanta Calcio Mantra e al Fanta Calcio in generale deve avere più scelte quindi dopo aver fatto la lista A fatto la lista B dovresti fare anche una lista C cioè ripeto ancora questa è la mia strategia e ho vinto tre leghe con questa strategia ragazzi quindi sono arrivato secondo in altre due quindi mi fido e cosa faccio faccio i miei giocatori preferiti quindi questa squadra qua che avete visto sopra poi in base a questo faccio una lista B ok e poi faccio anche una lista C è secondo me fondamentale e ripeto ancora un'altra cosa questi calciatori qua devono essere fattibili cioè non scrivete qui i migliori potevo mettere Luca Lukaku Immobile Milinkovic Savic bla 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 ma non serve a niente perché bisogna essere realisti e capire che in quella lega specifica in base ai fanta allenatori che ci sono posso prendere certi calciatori ok quindi mettete una lista qua la prima lista che avete di calciatori fattibili che riuscite in base al budget che avete la strategia a prendere non mettete qua Lukaku Immobile e Vlaovic perché è impossibile da prendere tutte e tre ok bene ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate nei commenti qui sotto quello che pensate di questa strategia per il mantra che almeno come funziona quasi sempre perché quasi tutte le stagioni vinco almeno una lega al fanta calcio mantra arrivo comunque un secondo andate a vedere nel link in descrizione al fanta calcio pro e anche l'abbonamento VIP al canale un abbraccio a tutti ciao ciao